Scusi Svevo? Svevo? Svevo, ma che succede qui? E' tutto molto strano! No vabbè a cantare, sei tro cool! Ancora con questo casco, ma che devo vedere? Ma no, dico il posto qui, guarda, ma non è la meraviglia? Portuni reclinabili, silenzio assoluto! Ma come mai qui non ce ne sono? Ma la vera chicca, la devi ancora vedere! Vieni però, in silenzio a fare rumori! Ma dove stai andando? Io non capisco! Io sto parlando italiano! Dime te se non è una cosa clamorosa! Svevo, io sto parlando italiano! Ragazzi, io resta qua! Mandatelo in una camera da letto così a Parigi! Tu parli italiano, io ti capisco! Ma che stai dicendo? Che vuoi vivere in un aereo? Shhh, che svegli stato mio! Se no, si spavanzano qui! C'è il wifi da bordo e il France Connect con il pass-message gratuito per Whatsapp, per compagnia, il pass-surf per navigare contro le mail, eccetera, e il pass-stream per film e serie di V! Ma pure lei immobile! Ma chi se ne prega c'è uno schermo tattile HD a voi a film e serie di V! Se buttano panze non si versano più! Ma che davvero vuoi rimanere a vivere qui, rinchiuso in un aereo? Rinchiuso, quant'è? Chi sentite? Ti dico solo che c'è le cene a base di caviale e champagne preparate dagli chef stellati Michelin, Daniel Beaulieu, Regis Marcon, Emmanuel Renaud e Guy Martin. Scusa se è poco! Ah, adesso ti piace la cucina francese? Vedi un po' tu? Spero che c'è andata a Belenacor suci pescato nasi? E Paolo Basso? Ti dice niente? Sì, certo, è sommelier! E' eletto miglior sommelier al mondo, si occupa proprio lui della selezione dei vini, qui! Com'è? E' buono! Hai capito sì? E tu ora fai scena a Parigi? No! Fammi capire Svevo, tu vuoi rimanere a vivere qui in un aereo? Sì! Per quanto? Sempre! Certo, per sempre! Rimaniamo a vivere qui in un aereo Air France! Ma che è Svevo? E' Star Trek? E' Star Trek? Svevo... Um, le due! Poi mi bella! Es riusciare ad un po' per un po'